E allora benvenuti Riperiani a un nuovo video, in questo video ti regalo dei riverberi degli IR che sono stati fatti da Jack Random in giro per tutta Italia, era in giro con quelli lì che scoppiati che vanno in bicicletta come si chiama, il giro d'Italia con Radio 105 e ha preso quest'opportunità di viaggio per regalare a voi Riperiani tutta una serie di IR Impulse Response di tutti questi ambienti in cui è stato, fa vedere nel suo video. Mi metto il tablet in testa, notare la gente che mi prende per pazzo, catturo il riverbero, io volevo registrare il riverbero delle montagne ma ditemi voi se vi pare normale. Come ha fatto a crearli c'è anche un mini tutorial su come lui li usa, molto completo, vatelo a vedere, ti lascio in descrizione qui sotto il video, te li faccio sentire molto brevemente, ho messo il link su Gumroad, ovviamente sono gratuiti quindi basta che fai 0 euro e dici lo voglio, lo riceverai nella tua mail e poi gli dici Allegra scarica e lui ti scarica il fantastico, ok? Riverberissimo. Una volta che hai scaricato questo zip ti ritrovi questa cartella con dentro appunto tutti questi stereo che potrai caricare nel tuo ReaVerb, come si fa, vi faccio vedere, qui abbiamo, questo qui è il Ripper che comanda il mio BS, scusate per questa roba del gate, ho cambiato al posto del ReaGate, adesso ho messo un SSL, come potete vedere è molto aggressivo ma perché devo chiudere le casse quando lavoro? Long story short, se l'audio dei miei video fa cagare, non so, guarda un altro YouTube, carichi il tuo ReaVerb e semplicemente ci trascini dentro il tuo Waveone, ad esempio andiamo a prendere una Cividale Androna e potete provare diversi riverberi, alcuni sono molto molto interessanti e alcuni sono un po' bizzarri Ma ci sono anche delle Hall molto interessanti Cavaldonato non si guarda in bocca, una cosa che su YouTube Italia immagino non imparerete mai a mio avviso, però questo è... Nonostante tutto, cioè la roba che mi sorprende è sempre questa, nonostante... No, fa niente, polemiche gratuite, scaricati sti riverberi e non rompere i coglioni Guardati come sono stati fatti, è un video molto interessante quello di Jack Random, vale la pena comunque dargli un'occhiata Se anche tu vuoi replicare questo tipo di cose, ho fatto diversi video su come creare degli R Ma, se non hai sbattimento di farti il giro d'Italia per andare a prendere tutti questi ambienti L'ha fatto lui, per voi, quindi grazie Jack Random, magari un iscriviti al suo canale, non è male Non mettete soldi nel Gumroad, prendetelo gratis, mi raccomando, perché se no non posso fiscalmente giragli, ho un manicomio Zero euro Se volete, fate una donazione direttamente a lui E se lui, non so, apriti un coffee, apriti un box di Paypal per le donazioni sul tuo canale YouTube Non fatelo tramite me, mi raccomando, è molto importante Niente, ci vediamo al prossimo video Goditi, goditi sta roba, ne vale la pena Goditi, goditi, goditi